I tornado tedeschi sorvoleranno presto la Siria. Berlino ha promesso una solidarietà più fattuale. Non possiamo più stare a guardare mentre l'ISIL si rafforza, detto Angela Merkel. La cancelliera non intende comunque violare il tabù che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale impedisce ai soldati tedeschi di partecipare ad azioni di combattimento all'estero. L'aviazione non parteciperà ai bombardamenti, come ha spiegato la ministra degli esteri Ursula von der Leyen. Berlino metterà a disposizione strumenti di tutela, ricognizione e logistica. Merkel e il presidente francese François Hollande ne hanno parlato a Parigi giovedì dopo aver reso omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre. La missione tedesca, che include anche l'invio di una nave militare d'appoggio, potrebbe cominciare già da gennaio. Prima serve il voto del Parlamento, ma la decisione dovrebbe passare senza troppi problemi.